Da sempre l'estate è sinonimo di libertà, gioventù, hit estive, nuovi amori, e da quest'anno Aggiornamento estivo di Animal Crossing Con questo nuovo aggiornamento estivo si può annotare con una muta o con un costume da bagno anni 50 che però devi comprare perché sennò non gira l'economia e perché Tom Nook è un procione birbone tirchio Brighella In mare poi si possono notare bolle d'acqua di persone che, di creature marine che noi strappiamo alla natura e doniamo al museo O vendiamo O anche diamo a questa lontra che ispira poca fiducia ma davvero poca E in cambio di capesante però ci darà schemi o abiti e ci informa della presenza delle perle che giaciano sul fondale marino Ma sono molto rare e le probabilità di trovarle basse ma io da porre nulla quindi è vero Queste nuove creaturine sono 40 in tutto tra cui alghe Vasi di creature strane Piante rampicanti Cose Patrick Stella Gary Granchi ottimi da cuocere a vapore Meduse potenzialmente mortali E sassi Aggiornamento estivo Aggiornamento estivo perché l'unico limite è una rete che non ci permette di andare a largo Aggiornamento estivo O O